Cerchiamo di ottenere un suono tipo questo. Come ho fatto? Allora, vediamo un attimo qua sopra con Logic. Praticamente io sto gestendo due canali separati, dove in uno ho il basso con il suono proprio singolo di basso. Quindi, se andiamo a vedere nell'equalizzazione, ho spinto un po' di bassi e un po' di medi-acuti, in modo da avere un suono comunque bruttino, però mischiato a un altro canale, in cui invece abbiamo solo un distorsore. Anche questo è un suono bruttino. Infatti ho messo questo grinder, chiaramente noise cancel, perché altrimenti... ...il suono. E poi un'equalizzazione in cui vado a togliere tutti i bassi. Tutti i bassi li faccio con l'altro canale. Un amplificatore normale. Spero di esserti stato utile. Ho usato Logic come DOW. ... ... ...